Sul sito di Verdone c'è scritto Detesto il 70% dei politici attuali Sì, il 70% dei politici secondo me non è assolutamente adatto Mi fa specie che hai salvato il 30% Qual è il suo pensiero sul momento politico attuale? Un brutto momento fatto soprattutto di persone molto scadenti di politici scadenti che grazie a loro abbiamo un'educazione che va avanti ormai da molti anni che è stata inculcata in maniera pessima nei cittadini Quindi viviamo un orrido momento però sono fiducioso perché da un'azione corrisponderà sicuramente prima o poi una reazione uguale e contraria Per inquadrare bene il momento culturale oggi di questo paese c'è un'immagine Il Teatro Valle Il Teatro Valle la dice tutta Il Teatro Valle di Roma Il Teatro Valle di Roma che è occupato da tanto tempo Perché? Perché il Teatro Valle è un luogo di sacra cultura In quel palcoscenico ci sono stati i più grandi attori di teatro italiani Ha una tradizione enorme Questo teatro a certo punto rischia di andare di diventare un megastore e andare a un privato Allora può il Teatro Valle che è un teatro che è un gioiello Andare a diventare l'emmesimo centro Non dico il centro commerciale che non ne possiamo più Ma un altro megastore Basta Allora questi ragazzi con grande coraggio Mi dispiace di non essere ancora andato da loro Ma ci andrò prestissimo Perché ci sono andati tutti Manco solo io Però Lo stanno tenendo in vita Pulendolo Facendo delle visite guidate Facendo esibire delle compagnie Invitando attori a fare dei monologhi In qualche modo lo tengono in vita Lo tengono Certo è una situazione Non so fino a che punto Potranno resistere Però La situazione è questa Cioè Si prende un simbolo della cultura E improvvisamente Si cerca di darlo a un privato Non è così Teatro Valle È tutto come dice lui Fortunatamente Ci sono degli esempi Che dimostrano che si può Pubblico Lo stabile Fondazioni private E altre istituzioni filantropiche E poi Privato appassionato Insieme Cose Anche impossibile Dimostrano che si possono Realizzare È chiaro che La montagna Che ti arriva ad osso Dal punto di vista immobiliare Regolatorio Eccetera Però si può Secondo me il modello è quello Nei beni culturali La collaborazione Tra pubblico privato E privato Sia profit Che non profit È una delle risposte Alla crisi Ma può essere Grande rilancio Alla crisi Alla crisi Alla crisi